Il cielo è blu e il sole è giallo, esiste una combinazione migliore! Wow! Sembra proprio che ci spetti la sfida blu contro giallo! Pronta? Toccava a me! Ma almeno questo è tutto mio! Spero sia freddo! Sembra buono! Alla salute! Così dolce! Adesso il tuo! Spazio per favore! Non sembra affatto male! E accetto sempre le cose zuccherate! Il pacchetto è adorabile! Assaggiamo! Buono e gommoso! Mi sento così sofisticata! Nel vetro tutto è più figo! E guarda che colore! E c'è un ventilatore! Ma deve essere così rumoroso! Ora basta! Ma dai! Non riesco nemmeno a pensare! Come va veloce! Sai che c'è? Ho un'idea! Guarda! Guarda! Wow! Ma quanto glitter! è figo o no? E' figo o no? Ecco! Ne vuoi un po'? Grazie! Ok! Ci provo! Alla salute! Ho esagerato un po'! Grazie per la doccia! Prendi il tuo stupido ventilatore! Aspetta! Io per prima! Wow! Quanti confetti gialli! E sono tutti per me! Li assaggio! Sanno di glassa al limone! Che buoni! Tocca a me! Un ice cream pop? Ma che figo! E sembra un vero cono gelato! Ma cosa c'è sotto? Guarda un po'! Ora capisco! Squati, squati! Ora sì che va meglio! Chissà di cosa sa! Non male! Non sono belle le mie unghie? Le ho fatte da sola! Sono carine quasi quanto il rossetto! Aspetta! Chissà cos'altro posso fare! Wow! Uno scrub ai confetti! Sento già i pori più liberi! Quindi, come sto? Sei invidiosa, eh? Questa roba è così versatile! Calo di zuccheri! Calo di zuccheri! Mi sento favolosa! Claire? La lascerò riposare! Apro prima io! Quanto viola! Quanto viola! E' un'ape! Che paura! Aspetta! Un'ape! Le odio! Falla andare via! Ho troppa paura! Ew! 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 Aspettami, piccol'ape! Beh, almeno io ho questi marshmallow con cui nutrirmi! Wow! Oh, guarda quanto miele! Sì! Sembra delizioso! No, non dare caramelle agli scoiattoli! Oh, sei tornato! E hai una ciotola di miele! Sì, è così! E tanti confetti! Oh, ne stai mettendo così tanti! È fantastico! Sì! L'intera bottiglia è la quantità perfetta! Ora guarda cosa faccio! Lo mescolerò con questo bastoncino di miele! Adoro come gira e gira ancora! Va bene, basta mescolare! E ora ho una bottiglia e un imbuto! È così divertente da guardare! È ora di versare il miele nell'imbuto e nella bottiglia! Il miele è così denso e ci metterò tantissimo! Ta-da! Ho fatto! E ora va nel congelatore! Nel congelatore? Fammi vedere da vicino! Ok, è passato abbastanza tempo! Sì, è bello freddo! È ora di aprire questa bottiglia! Premerò un bel po' e... Guarda, sta venendo fuori! Non posso più aspettare! E gli do un morso! Wow! Sembra molto buono! Ok, vediamo cos'ho io! Guarda! Pop Rock! Lo adoro! È ora di aprirlo e mangiare! Zip! Eccomi! Fallo! E in bocca! Oh, sono come fuochi d'artificio! Ne voglio altri! Sono anche rumorosi! Li adoro! Va bene, e tu cos'hai? Ma dai! Anche io ho Pop Rock! Ma in versione gomma! Non ho mai provato niente di simile prima! Allora vado! Come hai detto, in bocca! Uh, è gommoso! Ma scoppietta anche! Tipo... Ehi, guarda qua! Wow! Hai fatto una bolla! Che figo! Ehi, guarda! Wow! Che esplosione! Beh, ti sta bene per aver fatto scoppiare la mia bolla! Ne voglio mangiare ancora! Sì, Julie! Fallo ancora! Fai una bolla enorme! Non ne posso più! È troppo grande! Wow! Ma cos'è successo? Ah! Joy! Dove sei? Sei laggiù! Mi lascia sempre da sola! Cavolo! Penso di essere in orbita! Uh! Ehi! Sono tornato! È stata un'avventura pazzesca! Aia! Joy! Che... Andrò per prima anche questa volta! Uh! Un lecca-lecca all'uva! Apriamo questa caramella! Ecco fatto! Oh, wow! Ha un bel contenitore che si apre subito! È carino perché puoi conservarlo per dopo! Mmm! Sa proprio d'uva! È molto buono! Controlla il tuo! Oh! Una corda di limone astro! Oh, è così lunga! Come faceva a stare lì dentro? Chissà quanto sarà acida! Ecco, la scatola è sparita! Ora devo aprire questa confezione! Non posso negarlo! Non vedo l'ora di provare questa corda! Fammi dare un morso! Ehi! Ehi! Wow! Wow! Questa corda acida mi fa impazzire! È incredibile! Guarda tutte queste luci! Wow! Ma guarda che posto fighissimo questo! Wow! Wow! Joy! Fermati! Mi stai colpendo! Zoom! 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 Beh, almeno io ho il mio lecca lecca! Oh! Sta succedendo qualcosa! Oh! Non può essere, anch'io sono nel club! Ehi, Joy è laggiù! Ok, ecco cosa sta facendo! Va bene, togliti di mezzo! Adesso tocca a me! Ecco come si fa! Zoom, 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 zoom! Ma anch'io ero così ridicolo! Accidenti! Apriamoli insieme! E vai! Code di sirene! La mia è blu e la tua è d'oro! Sono carinissime! Spero siano anche buone! E vai! La mia sa di frutta! Anche la mia sarà buona allora! Oh, che succede? Luna, sei un pesce! Bene, e ora? Sarà per sempre un pesce! Credo di esaudire i desideri! Wow! Luna è un pesce rosso parlante! Se esaudisci i desideri, che ne dici di... Caramelle! Wow! Ha funzionato! Sei un pesce rosso fantastico! Grazie mille! Certo! Fammi sapere se vuoi qualcos'altro! Forse dei soldi? Ah! Bellissimo! Soldi, soldi, soldi! Me ne daresti altri? Ah! Amo i soldi! Ma... Non è così divertente averli senza la mia amica! Penso che sia quello che voglio davvero! Luna! Posso farlo? Wow! Luna! Mi sei mancata tanto! Ero davvero un pesce? Certo che sì! E guarda, mi hai dato questi soldi! Cosa? Inizierò prima io! Aspetta, cos'è quello? Un water? Aspetta! Ho capito! C'è un piccolo lecca-lecca! E ora vediamo cosa c'è dentro il water! Lo sapevo! Polvere per il lecca-lecca! Scommetto che gli darà un sapore diverso! Ecco qua! Wow! Molto meglio! Beh, ora anche io vedo cos'ho! Anche io ho un water! Un water dorato! Spero sia buono come quello di Madison! Un altro tuffetto! Oh! Dovrei provarci anche io! Ecco qua! Oh wow! È ricoperto di pepite d'oro! Delizioso! Ai! Un attimo! È duro come la roccia! Ho un'idea! Un magnete per loro! Vediamo cosa succede! Wow! Le pepite sono d'oro vero! Non ci credo! Luna, guarda! Wow! Wow! La mia collana! Oh! Sono bloccata! Non è divertente! Scusa, hai ragione! Ti aiuto! Ecco! Sei libera! Rivuoi le tue pepite? No, grazie! Ok! Ultima sfida! Bellissima! Com'è lucida! Il blu sta bene alle banane! Chi lo avrebbe detto? Forse non è una banana vera! Facciamo un test! Immagino ci sia un solo modo per scoprirlo! Apriamola! Attenzione! Il coltello è bello affilato! Wow! Sembra un sacco di lavoro! È fatto! Una banana perfetta! Guarda! Niente più buccia! Sì! Ma la mia l'aprirò nel modo classico! Wow! Si apre come una banana normale! Tada! Molto più facile che col coltello! Ah! Credo di aver esagerato! Ok! Vediamo cosa abbiamo qui! I biscotti della Milka sono sempre ben accetti! Sì! E saranno buonissimi! Ne sono sicura! Oh! Adoro i biscotti! Sai che c'è? Li renderò ancora più buoni! Metterò i biscotti in un pirottino! Così! Prendo un cucchiaio e del latte! Per metterne la giusta quantità! E ora li schiaccio con il cucchiaio! Quanto è difficile rompere questi biscotti! Ma cosa stai combinando? Non vedi? Adesso è un frullato di biscotti! E ora cuciniamolo! Devo solo togliere questa roba! Ma perché ci sono un dipinto e una valigia? Un'asse da stiro? E una pianta? Ci serve uno sgabuzzino più grande! Ok! Posso finalmente cuocerlo! Non vedo l'ora che sia pronto! Adesso gli ultimi ritocchi! I confetti a cuoricino sono i migliori! E adesso mangiamo! Oh! Adesso è ancora più buono! Non vedo l'ora di scoprire cosa ho io! Ah! Credo siano delle banane! Beh, le assaggerò! Oh! Oh no! Mi dispiace! Ce l'hai in faccia e nei capelli! E se ne mangiassite alla volta? Oh no! Arriva! Adesso ne sono tutta ricoperta! Sì, beh, avrei dovuto aspettarmelo! Prendi questo tovagliolo! Ok! Ora l'ultima! Sembra molto forte! Ma guarda quanto è grande! E scommetto che è piccante! Ci provo! Oh! Sì, vero! È piccante! Wow! È stato terribile! Ma sto bene adesso! Beh, fammi vedere cosa ho io! Wow! Ma sono bellissime! E così gommose! E anche grandi! Quanto i miei occhi! Credo si debbano mangiare in modo particolare! Facciamole allo spiedo! Wow! Scivolano facilmente! Uno spiedino dolce e gommoso! Delizioso! E succoso! Ne voglio ancora! Ops! Ti è scivolata dalle mani! Aia! Le mie dita! Bruciano ancora per la caramella al peperoncino! Tieni! Questa ti aiuterà! Sasso, carta, forbici! Wow! Che avrò trovato? Questi non sono occhi umani, vero? Sono strani! Ma comunque interessanti! Posso averne uno, per favore? Per favore! Non so! Voglio provarne uno prima! Che prelibatezza gommosa! Sa di limone! Lo vuoi davvero? Va bene! Tutto tuo! Grazie! Fregata! Sei cattivo! E te ne pentirai! Almeno il mio bulbo oculare è grande il quadruplo! Riuscite a crederci? Ti sta bene! Non credo! Quest'opera d'arte è tutta mia! Oh! È veramente piccante! Niam! Si scioglie in bocca! Credo che non lo saprò mai! Non riesco ad aspettare un minuto di più! Abracadabra! Un maialino? È carino! Non credi? Questo round è mio! Sembra che abbia il raffreddore! Meno male che non temo i germi! Forte! Ora è il mio turno! Scarpe! Del mio colore preferito! Speriamo mi stiano bene! Forse mi stanno meglio in bocca! Oh sì! I tacchi sono la parte migliore! Approvate in pieno! Che ideona! Nandy? Ti senti bene? Non posso rinunciare a un balletto su TikTok! Guarda questo! Ti piace? Potere della principessa viola! Pronti a giocare a viola contro giallo? Allora iniziamo! Monetina per chi va primo? Testa o croce? Eccolo me lo sento! Cosa dice? Tecnicamente non è da nessuna parte! Ta-da! Wow! Questi sembrano deliziosi! E un po' spaventosi! Wow! Anche questo è bellissimo! Come le porto fuori dalla bolla? Proviamo così! Brillano proprio come il sole! Mmm! Buonissime! Non vedo l'ora di provare le mie! Devo solo tirarle fuori prima! Che paura! Ottimo questo lecca-lecca all'uva! Questo round è il mio preferito finora! Un secondo! Ho un'idea ancora migliore! Il nostro piccolo amico squalo ha fame? Oh sì! Ecco a te piccoletto! Attento! Ti morde anche il dito! Apriamole insieme! Wow! Ho un uovo gigante! Non ci credo! È enorme! Io ho delle mini scatole nella mia! Le cose mini sono carine! Mmm! Deliziosa! Voglio vedere che c'è scritto sul foglietto! Oh! Adorabile! Che romantico! Che bel posto per un tramonto insieme! Ok! Devo vedere che c'è nella sorpresa! Oh wow! Non me lo aspettavo! È così blu! E ha un odore pazzesco! Do un morso! Ehi! Ma non è cioccolata! Oh! Oh! Ma che cavolo! La mia sorpresa è sorprendentemente disgustosa! C'è il polistirolo dentro! Sasso carta forbici per decidere chi inizia! Vinco io! Oh! Ok! Vai tu! E vai! Grazie! Una buonissima bibita! Oh! Ottimo perché ho una sete! Ah! Deliziosa e dissetante! Oh! Ho un'idea geniale! Guarda che succede a questo bastoncino! Wow! Come fai? Continua a guardare! Quasi finito! Tadà! È diventato un lecca-lecca! Pazzesco! Ma sei una maga! Ehi! Dovresti aprire la tua ora! Sì, hai ragione! Oh no! Attenta! Sto per esplodere! Ah! Scatiamo! A quanto pare non è esplosa! Credi? Però sembra spaventosa! Dovrò solo tirare la linguetta! E vai! Non è esplosa! Ora posso spruzzarla! Buono! Buon per te allora! Bene! Dov'è la caramella? Oh no! Si è sporcata tutta! Che peccato! Oh! Ma ho ancora la bibita! Ok! Vediamo che abbiamo! E vai! Lecca-lecca giganti! Uno ciascuna! Bellissimo! Non riesco a smettere di guardarlo! Saranno buonissimi, vero? Ehi! Tutto ok? È inflotizzata! Svegliati! Così attirerò la sua attenzione! Svegliati! No! Niente! Un po' di rumore! Niente! È in trance! Aspetta! La soluzione è lecca-lecca! Ci siamo! Un morso grande! Oddio! È delizioso! Ah? Hai detto qualcosa? Ehi! Hai morso il mio lecca-lecca! Aspetta! L'ho fatto per salvarti! Non importa! Mi devi un morso del tuo! Cosa? Perché mi guardi i capelli così? Wow! Hanno cambiato colore! E ora anche i tuoi! Stiamo da Dio con i capelli così! Uno, due, tre, apriamo! Wow! Caramelle blu! Io ho le gomme! Deliziose! Le adoro! La lunghezza perfetta! Wow! Io ho una specie di granata blu! Hai tolto la sicura? Non riesco a rimetterla! Non entra! Prendi! Forse il coperchio ci salverà! Ok! Non siamo esplosi! Chissà cos'è successo lì sotto! Oh, non mi piace! Wow! Ha creato più gomme! Era un'esplosione magica! E sono di colori diversi! Chissà come ha fatto! Aspetta! Non dovevo tirare la sicura! Bastava spruzzare! Va avanti e apri il tuo! È un tubetto di qualcosa! Wow! Non vedo l'ora di provarlo! Una bella strizzata in fondo! C'è una specie di pasta blu dentro! Ah! Proviamo! Oh! È gomma! Deliziosa! Wow! Che bella gomma! Spero di avere anch'io qualcosa di figo! Eh? È un alligatore! Credo sia una caramella! E premendo questo pulsante... Oh! Mi ha morso! Ehi! Mi è venuta un'idea! E... Pam! Ti è scoppiata la bolla! Comunque... È ora di aprirlo! Oh! È blu! Sembra buono! Non male! Ottimo sapore! Sasso carta forbici per vedere chi inizia! Tocca a me! Cosa? Sembra un giocattolo! Chissà come funziona! Eh? Ma dov'è il cibo? Forse se premo qui succede qualcosa! Ancora niente! Mi dispiace! Che sfortuna! Oh wow! Ho un intero mucchio di gelatine! E di sapori diversi! Deliziose! Ehi! Aspetta! Ho capito! Ehi! Senti che idea! Va bene! Proviamo! Le caramelle ci sono! Premo il pulsante! Guarda! Ha calciato! Goal! Woo! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Aspetta! Stavolta inizio io! È una pompa di benzina per le caramelle! È un modellino così bello! Vediamo che succede se faccio così! Come sono piccole! Sentiamo di che sanno! Ehi! Posso averne un po'? No! Usa la tua! Cattivo! Vediamo! Oh! Un pallone da basket! È decisamente più figo! Forse devo girare qui! La sua caramella è il doppio della mia! Proviamo! Ehi! Posso averne una? No! Tu hai il tuo! Ricordi? E se ce li scambiassimo? Sì! Ok! Ecco a te! Questi giochi sono divertenti! So! Ciao! interests! Vitale! Parti! Mori! Stasse! Ribe! Di grande! Chiina! G defensive! Desperdity! Ma prossima! Troppo! Grazie.